Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò dove si troveranno le due nuove falene lucenti di questa settimana nel trono mondo di Savatun. Per trovare la prima falena lucente vi basterà soltanto avviare la modalità sorgente, selezionare la modalità in maestro. Una volta avviata vi troverete da soli, senza altri player e senza che qualcuno avvii lo step. Una volta entrati dentro vi basterà soltanto girarvi alla vostra sinistra, entrare dentro la stanza e sulla statua a sinistra della stanza troverete la falena. La seconda falena si troverà nella zona di miasma, di preciso dovrete passare nella zona dell'eco della megera, dopodiché dovrete raggiungere la stanza dove vedrete nei video e dovrete interagire con la vista profonda, dopodiché dovrete girarvi dietro di voi e troverete la falena lucente da prendere. E niente ragazzi, queste erano le due falene lucenti di questa settimana, ovviamente queste sono le penultime falene lucenti, dopodiché la prossima settimana saranno le ultime. Stavo pensando poi di fare un video in cui racchiuderò tutte le falene lucenti così almeno quelle recuperate tutte insieme. Ovviamente lascerò i video anche di queste che sono separate così. E niente ragazzi, il video termina qui, io spero di esservi stato di aiuto, se così vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, così almeno potrete rimanere aggiornati su altri contenuti che farò a tema Destiny. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.